Il report di sostenibilità di BNL 2017 ci dà l'occasione di parlare di quello che facciamo in quest'ambito. Per noi la sostenibilità è un elemento centrale, crediamo che le aziende possano attraverso le loro azioni aiutare un cambiamento che è necessario quanto mai in questo mondo sulle tematiche complesse, ambientali e sociali che ci circondano. La nostra strategia è fondata su quattro pilastri, quattro ore di intervento che sono principalmente la responsabilità economica, ovvero il nostro modo etico di fare banca, la responsabilità come datore di lavoro, quindi come ingaggiamo e come favoriamo lo sviluppo continuo delle nostre persone, la responsabilità verso la collettività e infine la responsabilità ambientale per favorire la transizione energetica e fare una lotta attiva contro il cambiamento climatico. Siamo la banca per un mondo che cambia e siamo impegnati a cambiare il mondo per un futuro migliore. dietro